Buongiorno a tutti e benvenuti alla rubrica Body Health & Lifestyle, la prima rubrica creata dal calcio femminile italiano in collaborazione con noi professionisti e psicologi dello sport per supportare questo meraviglioso sport che è il calcio femminile. Io sono la dottoressa Sara Fratini e sono una psicologa clinica e della salute specializzata in psicologia dello sport e comportamento alimentare. In questo video oggi vedremo insieme quello che è il mental training e la strutturazione degli obiettivi chiamato goal setting. Lo sport richiede allenamento fisico ma anche allenamento mentale. Corpo e mente infatti sono connessi, non si possono scendere. Per un atleta è fondamentale riuscire a saper gestire le proprie emozioni, lo stress, l'ansia che può provare sia prima che durante una competizione. Anche riuscire ad acquisire una maggior consapevolezza e controllo proprio del gesto tecnico. Il mental training insieme al programma di allenamento contribuisce a migliorare infatti la performance sportiva, oltre che può essere molto utile anche per gestire il dolore cronico e il recupero da un infortunio. Ad ogni modo la preparazione mentale è quell'insieme di tecniche e strategie per acquisire e incrementare le abilità psicologiche. Si potrebbero dividere queste abilità mentali in tre gruppi di base, come la motivazione, l'autostima, l'autoconsapevolezza, di prestazione, ovvero l'ottimizzazione del livello di attivazione psicofisica e quindi la gestione ottimale proprio dell'attenzione, e facilitatorie, cioè la capacità di relazione interpersonale e gestione di vita. In più, ogni disciplina sportiva specifica ha delle abilità mentali specifiche che vanno sviluppate. Ad esempio, durante una partita un atleta potrebbe non condividere una decisione arbitrale. In questo caso è molto importante che sappia gestire le sue emozioni, tollerare la frustrazione e il senso di impotenza percepito, e riuscire a controllare i propri pensieri e riorientare nell'immediato la propria attenzione sul gioco. Il programma di mental training consente di sviluppare e di riportare nel gioco la peak performance, quindi la performance ottimale, migliore, per raggiungere gli obiettivi. Con il termine mental training si intende un allenamento mentale che aiuta l'atleta quindi a potenziare l'attenzione e la concentrazione, e le proprie abilità, come detto prima, anche di gestione dello stress e la prestazione agonistica nel rispetto della sua integrità psicofisica e del suo benessere. Vengono infatti utilizzate e insegnate attraverso la psicologa dello sport tecniche come quelle del rilassamento, come training autogeno, rilassamento progressivo di Jacobson, self-talk, imagery, goal setting, ma si va a lavorare anche sull'autostima dell'individuo, su un maggior sviluppo e consapevolezza e conoscenza di se stessi, delle proprie emozioni, come queste possono essere gestite. Si lavora anche sull'incremento delle abilità attentive di concentrazione e la gestione dello stato di attivazione. E inoltre, molto molto importante, è partire anche dalla formulazione di obiettivi raggiungibili, chiari e verificabili. Fondamentale è avere degli elementi da considerare sin dall'inizio, ovvero il profilo di personalità dell'atleta, le caratteristiche della disciplina, le abilità mentali e sport specifiche, la programmazione di preparazione tecnica e atletica e la programmazione di mental training che va coordinato al calendario agonistico. È importante ricordare che il programma di mental training è naturalmente strettamente individualizzato e centrato sull'atleta, ma sicuramente si possono individuare tre fasi sequenziali, ovvero lo sviluppo nell'atleta della consapevolezza di come le abilità mentali condizionano la prestazione, l'apprendimento di tecniche e strategie necessarie allo sviluppo delle abilità mentali stesse e l'allenamento volto all'automatizzazione delle abilità mentali e al loro trasferimento in gara. Ma come fa l'atleta a essere altamente motivato da un punto di vista interno e raggiungere la performance che vuole? Il primo passo è sicuramente quello di stabilire gli obiettivi. Vediamo quindi insieme il goal setting. Stabilire infatti gli obiettivi che si vuole raggiungere è fondamentale nella vita come ovviamente nello sport. Avere ben chiaro dove si vuole arrivare è un incentivo a mantenere alta la propria motivazione. Tramite il goal setting è possibile stabilire una direzione chiara da seguire e permette di regolare in maniera efficace gli sforzi, il tempo, l'energia profusa per raggiungere il proprio risultato. Inoltre permette, arrivando alla meta prefissata di avere dei feedback riguardo all'andamento della performance e quindi la possibilità di correggere il tiro passo dopo passo. Ma per essere efficaci gli obiettivi devono essere SMART. Questo è uno dei modi per identificarli e per definirli. Gli obiettivi SMART sono specifici, misurabili, realizzabili, rilevanti e regolate a livello temporale. Come li puoi costruire in pratica? Per costruire un obiettivo specifico puoi rispondere alle domande. Cosa voglio realizzare? Perché questo obiettivo è importante? Chi è coinvolto? Dove si trova? Quali risorse o limite ci sono? È fondamentale inoltre che sia misurabile. Questo ti permette di monitorare i tuoi progressi. Deve essere raggiungibile, quindi benissimo che sia ambizioso e sfidante, ma deve essere anche commisurato a quelle che sono le tue attuali risorse e capacità, pian piano che comunque le andrai a incrementare attraverso il programma di mental training. L'obiettivo deve essere ovviamente rilevante, quindi quanto è importante per te quell'obiettivo? L'obiettivo poi deve avere delle scadenze temporali. Ha bisogno in pratica di una data su cui concentrarti. Questo ti permetterà di volta in volta di dare le giuste priorità. Ecco qui alcune domande, ad esempio, che ti puoi fare per strutturarli. In conclusione ci tengo a sottolineare che l'allenamento mentale va di pari passo, accompagna e contribuisce a migliorare tutte quelle abilità che consentono anche di avere delle migliori prestazioni da un punto di vista tecnico e sportivo. Intanto, comunque, vi consiglio di provare a sottolineare i vostri obiettivi a lungo, medio e breve termine, così da migliorare le vostre capacità mentali e sport specifiche. Quindi seguite il canale YouTube di Calcio Feminile Italiano e vi aspetto al prossimo video. Intanto, nell'attesa del prossimo video, vi ringrazio per avermi seguito e rimando un saluto. Grazie per aver guardato il video.